Questi sono tipici del sud Italia. Il nome è Puccia. Viene da Puglia? Puglia, Salento, la città dell'Italia. E questo è chiamato Puccia in Salento. È un pane di freddo di freddo. Con la stessa pizza della napoletana. La stessa pizza della stessa pizza. Allora, lascia crescere un po' più, un po' più. Il segretto è di usare un po' di freddo di freddo di cucinare. Più di freddo? Sì, di freddo di freddo. Inoltre, inoltre di aprire una pizza, apremmo un po' per farlo flat. Ma non una pizza grande? Non una grande maggiore. Inoltre. 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 e voilà ok once they are all clean put a little bit of olive oil extra virgin on top to make a nice color and a nice crust keep it far from the fire far from the fire not too near because after burning outside don't cook inside how long are they staying though? and now we're going to have 45 minutes left to go to the audio oh perfect quanto stanno in forma? stanno 5 minuti 5 minuti come si colorano ora cresceranno non this is one, two and three No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. grazie ketchup? un pochino questo è tutto è molto bello come puoi vedere il panino tutto dentro se tu vai da un salentino la conosci se no no e la chiamano in modi diversi dipende da dove faccio il panino lettuce, tomato, cucumber mayo, goto no, no goto no 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 Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. È fai fai quando vedete. Sì. Non c'è un po' di più. Ha un po' di più. Grazie. Grazie. Sì. Margherita piccola. È fresco di frigo o è fresco? È fresco di frigo. È fresco di frigo. È fresco di frigo. Grazie mille.